Vi devo dire una cosa importante, io nella vita avevo un sogno, il mio sogno era quello di diventare un rapper, ma purtroppo questo sogno non si è avverato. I rapper sono spesso americani, quelli che hanno più grande successo, e i rapper americani rappano in americano, sono molto aggressivi. Io essendo italiano ho pensato, non ho avuto successo mai perché il rapper italiano deve fare i conti con la sua regionalità. Ah, io sono di Torino, tutte le immagini ho un rapper piemontese, i rapper come si chiamano? 50 Cent, Eminem, il rapper piemontese? Gioanin, il rapper dice io, il rapper piemontese? Il rapper è il DJ che screccia, fuck you up, il rapper piemontese? Non potrebbe funzionare mai questa cosa, ti immagini ho un rapper piemontese, Gioanin, MC Gioanin. Sono un rapper di campagna, il gusto ci guadagna. Poi che canzoni potrebbe mai cantare? Ti immagini ho il concerto, ciao bella bimba dove vai con quella mucca? La porto a montare dal toro che è la cucca? Ma questo deve farlo il tuo papà caro tesoro? No, sono sicura, deve farlo proprio il toro. Pup pup pup, bup bup, bup bup, bupia faus. Terribile. Certo qualcuno avrà da ridire sul fatto che io non sono proprio torinese doc, certo. Ma perché un rapper della Calabria, te l'immagini? Salutiamo gli amici calabresi all'ascolto, intanto il calabresi quando parla aspira l'aria. Com'è tutta a posto, tu mi chiesti, la cosa che viene a cazzire, aspira l'ossigeno. Se ne incontri uno in ascensore, ambiente circoscritto, rischi la vita. Entri in ascensore, entra il calabresi, com'è tutta a posto, mi chiesti, la cosa che viene a cazzire, sei svenuto. L'unico modo di salvarsi con un calabresi in ascensore, sapete qual è? Essere come me, vegano. Perché? Perché il vegano mangiando molti legumi emette, il vegano emette, il calabrese aspira, si ristabilisce l'equilibrio e ti salvi la vita. Immaginate un rapper calabrese. Le melanzane me le ho peste, sono un rapper calabrese. Pensa alle canzoni. Il dottore ha un paziente, chiede risposta. Allora, funziona il sonnifero in supposta? Il dottore è un po' forte, può stendere un mulo, mi sveglio il mattino, ho ancora il dito in cuore. Insomma, non sono diventato un rapper e ormai il mio sogno è infranto, perché per diventare un rapper purtroppo non c'è più tempo. Eh, non c'è più tempo che ci possiamo fare, ragazzi. Ah, non c'è più tempo. Mamma mia, che pubblico straordinario, tutti insieme a tempo con le mani a un pubblico fantastico, quello del salotto comedy. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa, e se ne frega se vuol dire ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato, e fino a tempo niente va mai fermato, e tutto il più forse lo hai misurato, con i più orologi che dimarca e modello. Eh, ma tanto il tempo resta sempre lui quello, l'unica cosa che mi è data di fare è avere tempo da poter organizzare, sì, da organizzare, da dividere i passi, cazzo, rullante, la mia voce di passi, passi, medi e alti, per fare salti, per far saltare il pubblico sugli spalti. Eh, e non mi annoio, e no, che non mi annoio, non mi annoio. Io no, che non mi annoio, non mi annoio, no, che non mi annoio, no, che non mi annoio. Oh, wow.